Sulla stessa presa, e questo è un po' completamente agonistico, ok? Stesso movimento, vado di qua per farlo muovere. Allora, devo girare con le spalle e la testa, per cui vado di qua per farlo muovere, vado di sotto. Attenzione, se io vado direttamente così, il suo polso rimane qua, devo girare in questa maniera. Allora il suo braccio riesco a portarlo anche su, cioè quando mi infilo sotto, non vado dritto a dirlo, come dire, come si manda la siena, allora riesco a portare il braccio sotto. Se invece mi infilo così, questo mi rimane dietro e lo perdo. Per cui è importante girare le spalle e la testa nel momento in cui vado su. Questa posizione mi serve apposta per poter venire su. Andare sotto, effetto molla, su. Allora, sempre in movimento, eh? Via, vado sotto. Per cui vado sempre sotto, muolo la manica e vado a prendere l'altra. Allora, nel momento in cui sposto, vado su. Allora, nel momento in cui sposto, vado a prendere l'altra, vado a prendere l'altra. Allora, nel momento in cui sposto, vado a prendere l'altra, vado a prendere l'altra, vado a prendere l'altra, vado a prendere l'altra, vado a prendere l'altra.